Bella ragazzi qui palazzi e benvenuti oggi in questo mio nuovo video Oggi ragazzi sono qua con questo breve anticipo prima che il piccolo video inizi Perché comunque ci tenevo a portarvi questo piccolo pack opening Ma mi scuso per il semplice fatto che registrando con il Rocket HDPVR Rocket che ha bisogno praticamente della chiavetta USB Praticamente il mio cane morsicando la chiavetta USB l'ha praticamente distrutta Quindi il pack opening, il pacchetto da 100k che voi vedrete che io ho aperto L'ho aperto registrando dall'iPhone Quindi non potete vedere la mia reazione eccetera Anche se si capisce la mia reazione anche perché urlavo Però fate conto ragazzi che erano le 6 di mattina Di stamattina mi ero alzato per ripassare inglese Quindi niente ragazzi ve l'ho voluto caricare Uno perché ci tenevo e perché comunque la squadra è stata abbastanza clamorosa Secondo perché molti mi hanno chiesto di caricarlo lo stesso Quindi ragazzi vi invito a lasciare 250 mi piace E se questo video raggiunge 250 mi piace Vi caricherò un video su FIFA Una partita Un one versus one contro uno youtuber Quindi 250 mi piace Entro stasera Soltorno al vostro palaz Bella raga Forza Juve stasera Andiamo ad aprire il pack da 100k Passo per vedere la pagina raga Lo schifiamo 3 2 1 Dai TAM Noyer 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 ragazzi Noyer E andiamo Guardalo qui Noyer Con le man Con le man verde Che pacchetto ragazzi Che pacchetto ragazzi Lucas Di su Corrovali Mie Che Rio Di su Di su Di su Di su Di su Di su Noyer Mamma mia Mamma mia Mamma mia Laga Mamma mia 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 Grazie a tutti.